Credo che siamo arrivati ad un momento cruciale per l'Europa, queste elezioni rappresentano un video perché o si va avanti o si torna indietro, ma se si torna indietro non sarà indolore, le conseguenze potranno essere non solo di tipo economico ma anche un peggioramento dei rapporti di cui non possiamo prevedere gli effetti. Tutto questo riprende dal fatto che questa Europa è stata costruita con una visione che è contraddittoria all'idea di costruire un'istituzione, l'idea che la sta guidando è quella di favorire i mercati con l'idea che le istituzioni verranno, purtroppo non è così, non è stato così e le conseguenze sono di un peggioramento delle condizioni economiche che stanno disamorando i cittadini per l'Europa. Rista Tsipras prevede invece di costruire con convinzione l'Europa, i suoi programmi sono concreti e il primo passo sarà quello di invertire la rotta rispetto alle politiche dell'austerità e del rigore peraltro strabili perché sono un rigore creato dalle malversazioni dai settori finanziari e che poi vengono messi a carico dei bilanci pubblici, delle popolazioni e dell'economia reale. Questa Europa è iniqua e controproducente, non funziona, occorrono programmi diversi e nel programma dell'altra Europa con Tsipras ci sono concreti progetti con i punti di virgola e i punti di virgola. Noi siamo dell'idea che si possa costruire un'idea di un'Europa migliore. Grazie. 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 Grazie.